allora ragazzi adesso con il microonde c'è ecotec che vi farò una ricetta veramente che ci vogliono tre ingredienti e soltanto due minuti allora innanzitutto prendiamo la nutella e ce ne serviranno due cucchiai allora iniziamo a prendere questa è la prima e poi prendiamo la seconda dopo di che aggiungiamo un uovo e infine due cucchiai di farina questo è un dolce in tazza che comunque ci vogliono pochi ingredienti si fa in microonde adesso mescoliamo tutto e dobbiamo avere una consistenza piuttosto liquida armatemi di forza ok appena avrà questa consistenza diciamo che il nostro tortillo in tazza è pronto da mettere nel microonde quindi possiamo metterlo all'interno del microonde ok mettiamolo all'interno del microonde e mettiamo qui l'impostazione per due minuti innanzitutto accendiamolo mettiamo qui due minuti perfetto e possiamo dare il via per adesso è in funzione però avendo la modalità specchio che ovviamente all'interno non si riesce a vedere però comunque completato i due minuti suonerà è terminato adesso andremo a aprire il forno ed ecco qui il nostro tortino wow diciamo che è cresciuto tantissimo anche perché la tazza era piuttosto bassa però comunque devo dire wow attenzione che scotta però devo dire che è riuscito alla perfezione allora se volete potete aggiungere anche un po' di zucchero a vero però penso che sia abbastanza dolce questo è il nostro tortino andremo a vedere guardate qui fantastico sarà sicuramente buono adesso andremo a assaggiare quindi ragazzi con pochi ingredienti quindi con un po' di farina, nutella e un uovo siamo riusciti a realizzare questo tortino nella tazza quindi davvero ottimo anche per fare colazione comunque anche per una merenda veloce in due minuti avete il vostro tortino quindi ragazzi grazie a CECOTEC che in due minuti riuscirete a organizzare un tortino in tazza giusto il tempo di due minuti per poterlo realizzare e mangiarlo grazie a tutti o